Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni, in via 25 Luglio 87. Le squadre aventi diritto all'iscrizione al campionato di calcio di Serie D sono 166, dopo i play-off nazionali che hanno sancito sette promozioni dall'eccellenza. Tra tutte queste formazioni ci sarà anche la Cavese, che sarà una delle 13 compagini della Campania chiamate a confermare la loro partecipazione all'Interregionale. Come succede ormai da tanti anni, però la regione che ha il maggior numero di società è la Lombardia, ben 24, ci si potrebbe comporre un girone e anche di più. Ma il numero potrebbe scendere a 23, atteso che il Mantova potrebbe essere riammesso in C dopo la rinuncia del Pordenone a partecipare alla terza Serie Nazionale. E potrebbero tornare a 24, qualora il Lecco dovesse essere ammesso in soprannumero. E ben 19 sono le società di calcio della Toscana che faranno la D nel nuovo campionato. Per quanto riguarda le regioni dell'area centro-meridionale e insulare, abbiamo 11 formazioni pugliesi, tra cui Gallipoli, Fidelissandria e Manfredonia, che nel campionato appena trascorso in Serie D non c'erano, e con il Nardò che spera nel clamoroso ripescaggio in C. Solo due le formazioni della Basilicata, Matera e Rotonda. In Calabria ce ne saranno sei, tra le quali la Gioiese, promossa dall'Eccellenza. Dal Lazio emergono Sora e Anzio, che si aggiungeranno a Cassino, Cinzia Alba Longa, Civita Castellana, Lupa Frascati, Nuova Florida, Ostia Mare, Monte Rotondo Scalo, Tivoli, Trastevere Calcio, Vissartena e Viterbese. Quindi sono in tutto 13 club. La Vissartena in particolare ha ceduto il titolo alla Roma City, che era retrocessa. A rappresentare la Sicilia 10 società. A Cireale, Canicattì, Licata, Ragusa, San Cataldese, Sant'Agata e Trapani, più le neopromosse Igea Virtus, Acragas e Siracusa. Cinque i club della Sardegna. Arzachena, Atletico Uri, Costa Orientale Sarda, più le neopromosse Latte Dolce e Budoni. Negli ultimi campionati la Cavese si è trovata a frequentare il girone I e il girone H. Quindi ha giocato in Lucania, in Calabria, in Puglia e in Sicilia. Ma laddove cambiasse ulteriormente l'aggruppamento e capitasse ad esempio nel girone G, incontrerebbe anche formazioni di Lazio e Sardegna. La società a cui lotta manca dalla Sardegna dal 1998. Ci saranno anche quattro club del Molise che parteciperanno alla Serie D, ma difficilmente la Cavese potrà capitare nel girone con loro, dato che le squadre molisane preferiscono far parte del raggruppamento adriatico.